Schierati sulla linea di partenza troviamo ora gli atleti della categoria G3, che partono in questo istante per la loro gara. Partenza piuttosto tranquilla per i nostri atleti e il pelotone si mantiene compatto e numeroso. Ancora gruppo compatto, sembra proprio che nessuno voglia tentare un'azione personale. Sulla testa del pelotone Rodengo, Nuvolento e Mazzano. Ultimo giro ed è un portacolori della Mazzano, la squadra organizzatrice che prova ad andarsene, ma il gruppo attento risponde subito. E nella volata finale ha la meglio Mazzotti Federico della Springedi, che sulla linea bianca dell'arrivo precede Zanetti Emanuela della Nuvolento, Malcotti Barbara della Storo, Freri Geremia della Nuvolera e Merletti Simone della Mazzano. Zanetti Emanuela vince anche la classifica femminile davanti a Malcotti Barbara e Ba Giulia della Bornato. Na 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 na, se dirai quando hai leggi... Grazie a tutti!